Ma intanto noi come Nicola Austur nasciamo come incoming Puglia e ci siamo evoluti nel corso degli anni lavorando sempre più con i mercati anche esteri e abbiamo oggi tre prodotti rappresentati da un catalogo Maritalia, un catalogo appunto Puglia e il nuovo brand raro che è un brand lusso. Diciamo che le caratteristiche principali del tour operator Nicola Aust sul quale noi spingiamo e insistiamo è la qualità del prodotto, per noi la qualità oggi è la parola d'ordine insieme a flessibilità, visto il momento particolare oggi bisogna avere un dialogo diretto con gli agenti di viaggio, bisogna confrontarsi e dialogare a tutti i livelli. Noi ci concentriamo molto, ripeto, a monte in fase di programmazione sulla qualità del prodotto, cercando di individuare quelli che oggi sono i prodotti più giusti e più validi per la nostra tipologia di clientela. Quindi fare questo sul Maritalia non è molto semplice perché oggi il Maritalia è un prodotto effimero, massificato. Noi abbiamo un occhio di riguardo nei confronti proprio del trade, avendo incentrato diverse campagne promozionali dedicate sia all'agenzia sia al cliente dell'agenzia di viaggio, regalando per esempio delle polizze annullamento per chi prenota in anticipo. Abbiamo probabilmente l'unica formula che c'è in Italia che si chiama dal nord al sud, noi diamo 50 euro a pratica di contributo a tutti i clienti del nord Italia che prenotano una vacanza nel sud Italia. Da qualche mese è nato il nostro nuovo brand Raro ed è un brand di lusso. Abbiamo raccolto all'interno di una brochure e all'interno di un portale che è il www.raro.traver la selezione dei 100 alberghi più belli d'Italia, a nostro modo di vedere, legando a questa tipologia di prodotto tutti i servizi di altissimo livello che si possono effettuare in Italia, dai corsi di cucina al Ferrari Tour, a una serie di altre esperienze anche legate allo shopping. Per noi oggi è una grande opportunità, oltre che ad essere uno stimolo. Intanto per quanto riguarda alcune strutture alberghiere, avere l'operatore internazionale, oggi l'operatore internazionale è molto attento alla qualità e quindi c'è un controllo della qualità degli alberghi, quindi agevola questo, agevola anche il nostro lavoro direttamente. Inoltre questo ci consente, consente a noi, grazie agli investimenti di questi operatori stranieri, che hanno programmato, già schedulato una serie di voli, dei voli charter, che servono anche molto al nostro prodotto. Abbiamo l'esempio di Twifly, che ha inserito diversi voli sulla Puglia dalla Germania, che noi utilizziamo moltissimo e che per noi sono un'ottima valvola di sfogo, anche perché oggi sull'Italia la questione voli è abbastanza ingessata. E quindi siamo purtroppo dipendenti di alcune realtà e dobbiamo sottostare alle loro regole, a volte anche pagando dei posti volo, dei seggiolini, probabilmente anche più di quanto costerebbe il medioraggio. Grazie a tutti!